Nel periodo estivo aumenta il traffico in strada e di conseguenza anche gli incidenti stradali. Per questo motivo la Polizia di Stato ha organizzato una campagna di sensibilizzazione per dare giusti consigli sui comportamenti da adottare alla guida. Estate con noi è il nome dell'iniziativa che ha fatto tappa a Termoli e a Largo Piedicastello. Ad attirare l'attenzione di grandi e piccoli, la Lamborghini, che viene impiegata nel trasporto in emergenza di organi, plasma e sangue. Ha a disposizione dei cittadini alcune attività interattive, tra cui un simulatore di guida in grado di riprodurre gli effetti dell'abuso di alcolici o l'assunzione di stupefacenti. Il nostro intento anche durante l'anno, sia con queste iniziative che andando per le scuole, è quello di crescere ragazzi sempre più consapevoli. Il nostro scopo è quello di avere incidenti zero. Secondo i dati estate in Molise, nel 2022 il tasso di mortalità per incidenti stradali è sceso più della media nazionale. Dall'indagine emerso che tra i comportamenti errati si confermano come più frequenti la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata, che rappresenta il comportamento più sanzionato, è rimasto elevato il numero di multe per uso improprio di dispositivi in auto, mentre sono aumentate le sanzioni per guida sotto effetto di alcol e droghe. Noi cerchiamo in tutti i modi di sanzionare questi comportamenti scorretti, soprattutto l'uso dei cellulari. Io ricordo che non è l'uso del cellulare che è punito, ma l'uso non usare entrambe le mani sul volante, quindi è vietato anche l'uso dell'auricolare. L'unico mezzo idoneo per parlare in auto è il viva voce. Gli altri mezzi non sono ammessi, né l'uso di cellulari, né l'uso di tablet, né tutto ciò che riguarda le nuove tecnologie.